Lunedì 17 dicembre, San Lazzaro di Betania. È il 351esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 14 al termine. Il sole sorge alle 7.45 e tramonta alle 16.32. La luna si leva alle 13.34 e tramonta alle 1.19. Muore a Venezia il barone Giorgio Franchetti, fine pianista e appassionato raccoglitore d'opere d'arte. Comprò nel 1896 l'Acca d'Oro, celeberrimo palazzo sul Canal Grande, facendone poi donazione allo Stato il 19 maggio 1916 affinché le preziose raccolte d'arte divenissero di pubblico godimento. Le ceneri del generoso donatore, racchiuse in un'urna romana, furono collocate sotto il pavimento musivo del porticato a terreno dell'Acca d'Oro. Le previsioni per domani. Sereno o poco nuvoloso, soprattutto sulle zone centro-settentrionali, mentre altrove probabilmente prevarranno foschie, nebbie e nubi basse. Marcato calo termico delle temperature minime con estese gelate, massime in diminuzione sulle zone centro-meridionali.